A Cassazione ha di recente approvato un provvedimento riguardante la delicata dinamica dell'aborto. Questo provvedimento prevede che durante il parto e quindi con la madre in travaglio, la morte prematura del nascituro potrà essere imputata come omicidio colposo e non più come aborto colposo al personale medico addetto nel momento della nascita. La sentenza della Corte fa riferimento al caso di poco tempo fa in cui un'ostetrica, non avendo monitorato adeguatamente il battito del bambino durante il travaglio, avrebbe somministrato una dose di ossitocina non necessaria, al fine di aumentare le contrazioni della madre, ma causando così la morte del feto durante il parto. La Corte ha messo agli atti che la transizione della vita uterina a quella extrauterina deve essere salvaguardata e la tutela della vita non può soffrire lacune e ha confermato la condanna a un anno e nove mesi di reclusione per omicidio colposo all'ostetrica, schierandosi in maniera decisa a fianco delle nuove normative sulla tutela dei diritti del nascituro in ambito nazionale ed internazionale. YouTube è sotto indagine in USA. La Federal Trade Commission starebbe indagando riguardo la gestione dei video indirizzati ai bambini, sia per quanto riguarda i contenuti che alcune pratiche commerciali. L'indagine è stata avviata dopo diverse denunce arrivate da gruppi di consumatori ed associazioni per la difesa della privacy, che accusavano il servizio di streaming di non proteggere a sufficienza i minori che accedono al sito e di raccogliere impropriamente i loro dati personali. YouTube starebbe già attuando diverse modifiche, tra cui un cambio degli algoritmi per evitare il più possibile abusi. L'Istat, in occasione del rapporto annuale, lancia l'allarme. C'è il rischio che il prodotto interno lordo torni a calare. L'Istituto ha infatti presentato una nuova stima, secondo cui la probabilità di contrazione del PIL nel secondo trimestre è relativamente elevata. I primi tre mesi dell'anno si erano invece chiusi con un più 0,1%. Guardando alla 2018, l'Istat mette in evidenza come l'Italia abbia proseguito il percorso di riequilibrio dei conti pubblici, ma i progressi fatti non sono stati sufficienti ad arrestare la dinamica del debito. Nel mese di maggio 2019 il numero di ore di cassa integrazione è aumentato del 6,3% rispetto allo scorso mese di maggio 2018. In totale sono state autorizzate 25,2 milioni di ore. È quanto risulta dai dati dell'Inps a crescere in particolare del 35% il numero di ore di cassa integrazione straordinaria che a maggio sono state 16,5 milioni, di cui 11,4% per solidarietà. Le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate sono state invece 8,6 milioni. Un anno prima, nel mese di maggio 2018, erano state 10,8%. Di conseguenza la variazione tendenziale è pari a meno 20,1%. In particolare la variazione tendenziale è stata pari a meno 2,8% nel settore industria e meno 48,7% nel settore edilizia.